Sono lieta di presentarvi oggi Clinical Beauty, un nuovo marchio di Alta Cosmesi specialista delle creme per il seno. Avete un seno troppo piccolo? Un seno poco sodo? Il vostro seno è troppo voluminoso? Avete un seno rilassato dopo l'allattamento? Oppure desiderate una crema per il vostro seno young? Ognuno di questi problemi ha trovato la sua soluzione con Stamina al Seno di Clinical Beauty. 5 creme per 5 problemi. Stamina al Seno di Clinical Beauty, la nuova linea cosmetica per la bellezza del vostro seno, per risultati rapidi sin dalle prime applicazioni. 5 creme con cellule staminali vegetali della stella alpina, in combinazione con estratti naturali esenti da ormoni ed estrogeni che vi aiutano ad avere un seno dall'aspetto invidiabile. E allora scegliete la crema più adatta a voi e vi arriverà a casa un cofanetto con due maxi vasi da 400 ml di crema per un trattamento di due mesi a soli 99,90 euro, compresa spedizione. Un piccolo prezzo perché tra Clinical Beauty e voi, cari amiche, non ci sono intermediari. Ma non basta. Clinical Beauty è talmente certa dei risultati che otterrete da proporvi una garanzia totale, a rischio zero, sul vostro acquisto. Per usufruire di tale garanzia dovrete usare diligentemente due volte al giorno, mattino e sera, la crema prescelta, spalmandola su ambo i seni e sul décolleté. E se la promessa in 30 giorni non viene mantenuta, Clinical Beauty vi rende il vostro denaro. Tutto. Perché non provare? Non rischiate nulla. Chiamate adesso e siate pronte per la prova costume. Il vostro seno deve essere in perfetta forma e oggi con Stamina al Seno di Clinical Beauty supererà l'esame sguardo di chi vi sta vicino. Ma qual è il segreto? La formula esclusiva di Stamina al Seno. Come funziona e perché funziona? Lo chiediamo alla responsabile sviluppo di Clinical Beauty, Giovanna Bagordo. Per trovare una soluzione ai problemi estetici al seno abbiamo puntato in alto. Siamo saliti fin sulle vette più alte. Siamo andati alla ricerca di una delle più belle piante che la natura ci regala, le stelle alpine. I nostri ricercatori hanno individuato nelle cellule staminali vegetali delle stelle alpine quei principi attivi che, sintetizzati, sono stati in grado di dare risultati in tempi brevi. Le cellule staminali sono cellule in grado di svilupparsi potenzialmente all'infinito che, debitamente stimolate, contribuiscono a ricostruire e a rigenerare le cellule stanche. In questo modo, il naturale processo di rigenerazione o, se volete, di sostituzione delle vecchie cellule con quelle nuove viene accelerato, garantendo una rinascita dei tessuti. Nel caso dei tessuti del seno, la combinazione di questi estratti naturali, privi di ormoni ed estrogeni, garantisce un'accelerazione del ricambio cellulare, oltre che una profonda idratazione e tonificazione del tessuto trattato. E la parola accelerazione è quella sulla quale i laboratori di ricerca si sono concentrati per offrire una possibilità concreta di avere risultati in breve tempo. Un risultato estetico che l'azione delle creme staminali al seno rende molto evidente. Favorisce la nascita di una pelle nuova in un tempo più che dimizzato, rispetto al processo di rinnovamento cellulare naturale. L'efficacia di questi cosmetici, che per ognuna delle creme è indirizzata ad affrontare zone o problemi specifici, si traduce in un significativo rialzo dei seni. Risultati entusiasmanti, risultati permanenti. Con l'uso costante e scrupoloso di Staminal Seno e di Clinical Beauty, il vostro seno aumenta giorno dopo giorno, impercettibilmente ma inesorabilmente di volume. Non ve ne accorgerete, ma vi ritroverete a guardarvi allo specchio e a stupirvi del vostro nuovo seno. Dopo poche settimane l'aumento potrebbe equivalere ad una taglia in più e senza l'intervento del bisturi. Tutto naturale e sicuro al 100%. Il vostro seno tornerà a stare su da solo. Ma se i problemi sono altri, come un seno poco sodo, un seno troppo voluminoso, un seno rilassato dopo l'allattamento o un seno young, con le creme Staminal Seno di Clinical Beauty, avrete una possibilità unica. Avere un seno dall'aspetto invidiabile, senza passare dal bisturi. Ma abbiamo invitato alcune nostre clienti a raccontarci la loro esperienza con Staminal Seno. Sentiamole. Posso dire, meno male che Staminal Seno c'è? Guardando le riviste femminili, un po' di invidia per quelle ragazze la provavo, specialmente quando facevo il confronto tra il mio seno ed il loro. E il pensiero era sempre uno. Come faccio ad avere un seno così? Anch'io. Mi è venuta in aiuto una mia amica. Mi parla di Staminal Seno Formula Volumizzante, delle cellule staminali vegetali, mi dice che non ci sono ormoni estrogeni e che massaggiando il mio seno tutti i giorni con Staminal Seno avrei avuto il seno che sognavo. Ho provato e adesso sono la donna più felice del mondo. Ho guadagnato quasi una taglia in più e il mio seno è proprio come lo sognavo. Amiche, avete fatto una dieta che vi ha rovinato il seno? Siete dimagrite e troppo in fretta e il vostro seno ha perso di consistenza? Oppure il vostro seno con l'età ha perso il suo volume? Volete un seno sodo, rigoglioso, invidiabile? Ecco la soluzione naturale che aspettavate. Staminal Seno di Clinical Beauty, la linea di alta cosmesi clinicamente testata alle cellule staminali della stella alpina, senza ormoni ed estrogeni, che vi aiuta ad avere o riavere il seno che avete sempre desiderato, in modo naturale. E il chirurgo può attendere. Dopo il secondo figlio il mio seno non è più tornato come prima. Guardandomi allo specchio rimpiangevo come ero, perché ho sempre avuto un bel seno, prosperoso, sodo. E vederlo come rilassato non mi piaceva affatto. Però non ho mai pensato di ricorrere ad un intervento chirurgico, perché questo tipo di cose mi hanno sempre spaventato. Poi, grazie ad un'amica, scopro Staminal Seno di Clinical Beauty. Beh, ho sempre pensato che la mia amica si fosse fatta un bel ritocchino. Ma la sorpresa è stata quando mi ha detto che il seno era tornato come prima, usando una crema per due o tre mesi. Una crema, non ci volevo credere. Poi, ho provato anch'io Staminal Seno, formula post-allattamento, e sono rimasta meravigliata. Ho riacquistato quel tono che era scomparso. E adesso il mio seno è di nuovo bello come era prima di allattare. Chiamate adesso e scegliete la crema più adatta a voi. Formula sviluppo, formula rassoddamento, formula riduzione volume seno, formula ristrutturante dopo allattamento per mamme in forma, formula Seno Young. E vi arriverà a casa un cofanetto con due maxi vasi da 400 ml di crema per un trattamento di due mesi a soli 99,90 euro, compresa spedizione. Un piccolo prezzo, perché tra Clinical Beauty e voi, cari amiche, non ci sono intermediari. Ma non basta. Clinical Beauty è talmente certa dei risultati che otterrete da proporvi una garanzia totale, a rischio zero, sul vostro acquisto. Per usufruire di tale garanzia dovrete usare diligentemente due volte al giorno, mattino e sera, la crema prescelta, spalmandola su ambo i seni e sul décolleté. E se la promessa in 30 giorni non viene mantenuta, Clinical Beauty vi rende il vostro denaro. Tutto. Perché non provare? Tra avere un seno che non vi piace e un seno che vi entusiasma, la scelta mi sembra una sola. Ho sempre avuto un bel seno, ma con gli anni qualche cambiamento c'è stato. Si era come ridotto di misura, aveva perso tono. Non mi sentivo più a mio agio nel mettere un vestito con una scollatura un po' più profonda. Ed estate, ad esempio, non mi andava di mettermi in costume. Allora ho iniziato a cercare una soluzione e in tv scopro Stamina al Seno, formula rassodante. Ho pensato, con tutti i prodotti che ho provato, provo anche questo. E sono felice di averlo fatto, perché col passare delle settimane ho visto e sentito quel cambiamento che volevo. Adesso ho riacquistato la mia misura naturale e un seno nuovamente sodo. Se volete riavere il vostro seno a comere una volta, fate come me. Fidatevi di Stamina al Seno. La linea Stamina al Seno di Clinical Beauty è un prodotto naturale, nel quale le cellule staminali vegetali della stella alpina, in combinazione con altri estratti naturali esenti da ormoni ed estrogeni, vi aiutano a riavere un seno dall'aspetto invidiabile, come ci dice la ricercatrice di Clinical Beauty, Federica Prati. Il segreto di Clinical Beauty è quello di aver inserito nelle sue creme le cellule staminali vegetali che agevolano la penetrazione profonda dei principi attivi con l'ottenimento di risultati entusiasmanti fin dalle prime applicazioni. Queste cellule, rigenerandosi, provocano un effetto lipofilling naturale, cioè un naturale aumento di volume dello strato lipidico del seno, con il conseguente rimodellamento desiderato. Ma qual è la funzione delle cellule staminali della stella alpina? Sappiamo che il seno non ha una muscolatura propria, ma viene sostenuto dal tessuto connettivo e dalla pelle del décolleté, che tanto più è idratata, tanto più sostiene. Mai come con le cellule staminali della stella alpina si è ottenuto un'idratazione così profonda e solo una pelle ben idratata permette al seno di stare su da solo, creando, come lo definiamo noi, l'effetto elastico o push-up. E cosa dobbiamo fare per usare correttamente staminal seno? Innanzitutto seguire attentamente le indicazioni della guida all'uso che viene consegnata con il prodotto. Più semplicemente la crema va applicata al mattino, prima di indossare il reggiseno. In pochi istanti si assorbe completamente, senza unger e senza appiccicare. E se durante la giornata facciamo una doccia, a che fine fa la nostra crema staminal seno? I principi attivi agiscono grazie alle cellule staminali in profondità e non vengono lavati via anche dopo un bagno o una doccia. Alla sera si dovrà procedere con una seconda applicazione prima di andare a dormire per avere un'azione 24 ore che è il presupposto per un risultato ottimale. Mia figlia di 17 anni vorrebbe un ritocchino al seno, però io non voglio e lo sai Giada, comunque per legge non si può fino ai 18. Allora ti dico una cosa, la mia amica Francesca ha usato Clinical Beauty Formula Young e ha avuto subito dei bei risultati e i ragazzi guardano solo lei. È una bella idea, te lo compro. Amiche, avete fatto una dieta che vi ha rovinato il seno? Oppure siete dimagrite troppo in fretta e il vostro seno ha perso di consistenza? Il vostro seno con l'età ha perso il suo volume? Volete magari un seno sodo, rigoglioso e invidiabile? Ecco la soluzione naturale che aspettavate. Stamina al seno di Clinical Beauty, la linea di alta cosmesi per avere o riavere il seno che avete sempre desiderato. Con l'uso costante di Stamina al seno di Clinical Beauty, il vostro seno aumenta giorno dopo giorno, impercettibilmente di volume. Un seno più turgido, più sodo, un seno più alto, un seno come lo avete sempre voluto. E questo grazie ad un prodotto con cellule staminali vegetali della Stella Alpina, in combinazione con estratti naturali esenti da ormoni ed estrogeni. Un prodotto efficace e facile da usare. La crema va applicata al mattino prima di indossare il reggiseno. In pochi istanti si assorbe completamente senza ungere. E i principi attivi che agiscono grazie alle cellule staminali in profondità non vengono lavati via se durante la giornata fate un bagno o una doccia. Alla sera dovrete procedere con una seconda applicazione prima di andare a dormire per avere un'azione 24 ore. Avevo il problema contrario a quello di tante altre donne. Troppo seno. Lo so, magari molte diranno che fortuna. Invece per me era una vera seccatura. Mi dava qualche complesso. Tutti sembrava che guardassero solo lì. Ma grazie a staminal seno ho risolto. Non dico che il mio seno sia sparito, ma è proprio come lo volevo io. Pieno, bello, ma non esagerato e senza quell'effetto pelle vuota. Staminal seno infatti è così idratante che crea sulla pelle un effetto elastico straordinario che sostiene e rende il seno sempre pieno e sodo. Anche voi siate protagoniste del vostro successo. La differenza tra un seno piccolo, appassito, cadente e un seno perfetto è Staminal Seno di Clinical Beauty. Chiamate adesso e mettetevi in contatto con noi. Solo telefonando al numero che vedete potrete avere direttamente a casa questo fantastico e rivoluzionario prodotto. Staminal Seno di Clinical Beauty la nuova linea cosmetica per la bellezza del vostro seno per risultati rapidi sin dalle prime applicazioni. Grazie a Clinical Beauty ho finalmente il seno che volevo. Anche mio marito si è accorto del cambiamento ed è molto contento. Grazie Staminal Seno. Adesso sì che ho un seno che piace a me. 5 creme con cellule staminali vegetali della stella alpina in combinazione con estratti naturali esenti da ormoni ed estrogeni che vi aiutano a riavere un seno dall'aspetto invidiabile. Avete un seno troppo piccolo? Un seno poco sodo? Il vostro seno è troppo voluminoso? Avete un seno rilassato dopo l'allattamento? Oppure avete un seno young? Ognuno di questi problemi ha trovato la sua soluzione con Staminal Seno di Clinical Beauty. Scegliete la crema più adatta per voi e vi arriverà a casa un cofanetto con due maxi vasi da 400 ml di crema per un trattamento di due mesi a soli 99,90 euro compresa spedizione un piccolo prezzo perché tra Clinical Beauty e voi cari amiche non ci sono intermediari. In più chiedete alle nostre operatrici come avere il nostro utilissimo regalo il videocorso per avere un seno al top ma non basta Clinical Beauty è talmente certa dei risultati che otterrete da proporvi una garanzia totale a rischio zero sul vostro acquisto. Per usufruire di tale garanzia dovrete usare diligentemente due volte al giorno mattina e sera la crema prescelta spalmandola su ambo i seni e sul decolleté e se la promessa in 30 giorni non viene mantenuta Clinical Beauty vi rende il vostro denaro tutto perché non provare. Grazie a tutti.